Dalla costa Smeralda arriva uno scoop pronto a infiammare l'estate. Ciò è stato riportato dalla D'Agostia. Secondo la quale Fabrizio Corona ha chiesto la mano del chirurgo sardo Giacomo Urtis. Che avrebbe detto di sì. Il matrimonio sarebbe già all'ordine del giorno del prossimo anno. Sono innamorato. Spero che non lo faccia per affari. Detto da D'Agostia Urtis. Che ha vagato per la domanda con un nessun commento il chirurgo VIP anche inviato un video in cui. 2. Con una corona a L timone. Si è schiantato contro una motocicletta.